buongiorno e benvenuti a questa prima edizione flash del tg 2000 contagi in calo in italia nelle ultime 24 ore sono stati poco meno di 34 mila in calo però anche il numero dei tamponi cresce invece il rapporto tra tamponi processati e nuovi positivi adesso al 17,4 per cento 400 546 decessi che portano oltre 45 mila le vittime dall'inizio dell'epidemia e uno studio dell'istituto tumori di milano rivela che il covid 19 circolava in italia già da settembre del 2019 il ministro speranza dice il picco potrebbe arrivare tra sette giorni lunare parlare oggi del natale pochissime persone in strada e negozi chiusi nel primo giorno di chiusura totale in toscana e campagna da ieri ufficialmente in zona rossa anche l'abruzzo verso la serrata nelle prossime ore il governatore marsilio dovrebbe firmare un'ordinanza che prevede tra l'altro la chiusura delle scuole di ogni ordine grado e lo stop ai centri commerciali scuole chiuse da oggi anche in basilicata e fino al 3 dicembre ci spostiamo a foggia dove in corso dalla notte una maxi operazione antimafia contro la criminalità organizzata locale decine i fermi e gli arresti di soggetti affiliati e contigui all'organizzazione criminale di matrice mafiosa nota come società foggiana nel mirino la cosiddetta zona grigia quella delle connivenze occulte e continua all'iter della manovra finanziaria 2021 da circa 40 miliardi alle 12 nuovo consiglio dei ministri la nuova bozza tra le altre cose prevede anche 400 milioni per l'acquisto di vaccini contro il coronavirus il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo ma resta il nodo dei ristori per le zone rosse intanto oggi conti incontra i sindacati nel pomeriggio attesi invece in mattinata i dati significativi su consumi inflazione e reddito di cittadinanza oggi in questi tempi di incertezza e fragilità non sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi con l'atteggiamento dell'indifferenza e tempo del coraggio e dell'amore e questo l'invito lanciato da papa francesco nella messa a san pietro ieri per la quarta giornata mondiale dei poveri la francia e parigi sono in lockdown la giovane violoncellista camille tomat la sentite ha deciso di esibirsi con il suo stradivari del 1730 nel cadiche di ravelle dal tetto dell'institut de fans a parigi l'ha fatto per nutrire l'anima ha detto e portare la bellezza ai residenti confinati nella capitale ed è tutto prossimo appuntamento con l'informazione alle 12 arrivederci a